Puglieschi medici strofinano il naso, in Slovenia si abbracciano, ma non è normale, in Francia mangiano le rane, per dire. Siamo a Biollo, campione emiliano, da Salso Maggiore Terme, Salso Maggiore Terme. Oh ma dimmi il nome vero però, no Biollo? Biollo gioca con Setup Song? No, fa finta di niente, non ci vuole dire come si chiama. Biollo mi mimica. Setup, set up seduto su una sedia blu e appoggia il joystick su una nera, joystick nero, tasti verdi. Anche un po' di grigio. Giallo. Giallate. Giallo. Doppio giallo. Doppio giallo. Doppio giallo. Il mio personale sarà Bison, contro Dalsim. Oh ma quanto devono arrivare questa? Dalsim. Onda. No, è il 4. 4-0. Ma ragazzi, 4-0 e perché non ho tanto spazio in turista, eh? Scivolata. Uh, Dalsim non ha combo. Dalsim non ha. Quindi la va bene così. La va bene così. La presa e la mente. Eh no, perché la tecca, quindi non può fare un cazzo. Biollo è il primo rano, non ci vuole dire come si chiama. Biollo, fino alla fine. Se vinci ci dici come ti chiami. No, che l'avrà detto, ma io non lo so. No, ma tanto, Onda non può fare un cazzo, ha già vinto. Eh, chiediamogli come si chiama. Onda sculata sopra la bolla. Onda quasi secondo round. Onda, no, sì. Nessuno sa. Spaina ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha la vampa insumale. Viola degli amici che non sanno come si chiama. Poi gli chiediamo alla fine. Ah, regga recupera, sono alla party. Hai presa, no. Se la lascia su. Non credo. Usa Onda perché può fare la testata. Perché Onda non è tanto svantaggiato contro Daci. Combo scivolata, eh, combo scivolata miti di calcetto non è male. No, fanno scivolata due calcetti in Giappone, però vabbè. Super a caso. Con Onda va sempre bene. Cippa va da schifo. Cippa la Super. Cippa la Super. Ci panno meglio dei miei mani. Le mani ci panno meglio, ma anche la Super non scherza. No, ne fa quattro. Ma non sempre. È a caso, perché ce ne è programmato male sto gioco. E quindi la Super di Onda ogni tanto non fa tutti e quattro i colpi. Due o tre vanno a vuoto. Medio anti-air. Indietro pugno medio, perché dà il simone tutte le normali strane. Sì, sì, sì. Scivolata. Ancora la combo... La combo Giappone. Bull. È troppo lontano per il secondo, forse. Oh, ma stiamo facendo un commento tecnico, non va bene. C'è stata. Quindi le mani cippano. Scivolata forte. Scivolata presa. Questa è la sparata che ne ha in casa. No, perché nessuno ha capito, ma non gli importa. Applausi. Uno pari. Uno pari. Uno pari. Uno pari. No, no, ma... No, no, meglio, meglio. Meglio, meglio. Ancora Bison Dacim. Alcuno mi sparerà per aver detto Bison. Il nome è fake, ma... È dal 94 che lo chiamo così. Cosa devo fare? No, si chiama Vega. È Vega il nome vero. Non è Ria. Il nome è Ria, scusa. Bison è fake. O Michele Bison, come diciamo in Veneto. Michelino. Michelin. Michelin Bison. Supercarica, Dacim cippa... No, adesso c'è la Bison carica. Ma tanto non... Sempre cippare, sempre. No, è... No, ma è abbastanza normale, perché è un Xbox che ti prende anche la schiena. È un po', sì, però... È il miglior personaggio del gioco, comunque. Sì, Dacim. Però è sempre soggettivo, perché Bison può ammazzarti in una combo sola. Non questo Bison, ma... E' un po' il polemico. Due combo... Ecco la combo che dicevamo prima. È un po' la signature di Piollo quella cosa. Sì, sì, sì. Signature. Supercippa. Superedreversal, no. Yoga Flame. Presa. Nughi che non so in italiano come si dica. Yoga Nughi che è quella cosa che gli fai sulla testa. È il nome real della mossa. Anche le prese hanno un nome. Nughi. Nughi. Ah, è Nughi. Nughi, Nughi. Io dai miei anni, dieci anni di giudo, Nughi. È servita qualcosa, finalmente. Un momento teatro. No, ma dicevo, Nughi è proprio la... Sì, è una botta in testa di dare. Quella di dare, sì, 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 sì. Quanto sono? Mi vale 2 a 1 per Mitsu. 2 a 1 per Mitsu. Per il maestro. Per il maestro. Maestro della palestra a Veneta. Io non ho mai... Guarda. Io in dieci anni di arti marziali non ho mai sentito nessuno dire dojo e non comincerò adesso. Palestra. No, all'esame, quella cintura ogni tanto ci chiedevano... Ma come la prese? No, 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 lascia... Allora, Dalsim... Perché allora? Non tutti i personaggi hanno... Ma non è un bel gioco. È un bel gioco, non è un bel gioco. Questa è la cosa che mi ha fatto un po'... Praticamente, non tutti i personaggi prendono la stessa distanza. E Dalsim è uno di quelli che prende da più lontano. Ma, da un bel po' lontano. Questi fra... I due sono... Questi due sono quelli che hanno... Anche c'è uno. C'è un lì però già meno di questi due. Lo spagnolo? Lo spagnolo non è che prende da lontano. È che cammina... Eh, vedi. Vedi che lo sto... Eh, lo sai, lo sai. Abbiamo perso il conto delle partite, ma... No, no, io non lo so, sono due a uno per me. Tre, terzo round, presa, tanto per cambiare. Sono poche prese in sta partita. Potrebbero essere c'erano di più, eh? Sì, potrebbero essere c'erano di più. Per fortuna che non ci sono... Combo da due. Ma almeno un calcio forte. Forte, no, no, quello debole. Che cosa serve? Tre a uno. Hai quattro, hai quattro. Era il tre? No, delusione totale. No, allora, non era il quattro, abbiamo... Amministratore, a quante è? A tre? A tre. È finita, è finita. Finita, è finita. Mitsu, campione italiano, man. Siamo tutti un po' sconcertati. Ho sconcertati, non ha mito. L'unico giocatore che non ha fatto una combo in tutto il torneo ha vinto. Ha fatto calcetto, calcetto, calcetto. Ha fatto tre calcetti. Calcetti in aria, calcetto basso, calcetto scherzo. E neanche la presa dopo. E su questo salutiamo la scena da Milano.